... Oh, c'è un po' di scolpare un alto ogni 4 minuti. Non si tratta dell'effetto di una misteriosa magia. Ma di banali furti. E infatti, come in questo caso, il trucco c'è e si vede. Ma quello che sconcerta è che il loro numero non accenna l'inizio. Non basta l'integno della polizia. E neppure l'incessante evoluzione degli antifurti ad arginare l'opera di labili sempre più tecnologicamente preparati. I labili una volta, se così li possiamo definire, non ci sono. Ci sono labili tecnologici. Ormai le automobili sono dotati sistemi di sicurezza passivi, sono molto difficili.